Sei giovane, forte, bella, piena di vita, mentre mia figlia marcisce un pezzo per volta in un letto d'ospedale! Non c'est un pezzo, non c'est un pezzo, non c'est un pezzo! Non c'est un pezzo, non c'est un pezzo, non c'est un pezzo! Non c'est un pezzo, non c'est un pezzo, non c'est un pezzo! 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 Non c'est un pezzo! Che cosa ha provato nel momento in cui ci vediamo? Un grande senso di... Se posso definirlo, un grande senso di pensare. Un vettacolo. Ma vincermi alla necessità di uccidere. C'è un volo che sembrava tentativi. Poi oltre... Quei... Cosa sono morti? Sono morti sotto. Quando si sfacciano sulle rocce. Il tuo sangue... Schicchiato dappertutto. Il sangue... E' un'altra per la rocce. Bustare, bustare! Capace di tutta cosa un muriaggi. E' un fuor d'arte. E' un'altra vera. Mi stavolta con quella disegrazione. Avete lasciato come una malattia. Mi stavolta che non riuscivo ad averti. Non porti in formali. Con le donne. Non potevano immaginare cosa ne aspetta la banda. E' ucciso. E' ucciso. E' ucciso come bambola. E' ucciso. 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 Grazie a tutti.